ehi popolo di internet sapete cos'è successo negli studi di fanpage quando è morta l'età d'offa ragazzi è morta l'età d'offa ti diverti a lucrare sulle persone morte ok lo fanno anche i giornalisti è vero lo fanno tutti quanti ma tu in particolar modo basta non una notizia ne basta mezza per dire che è morta a me dispiace che sia morta ma dieci dico dieci cazzo di video stop fanpage stop fermati finché sei in tempo che poi vedi è morta nella toffa festa al san vidolo capo è morta nella toffa tristezza in famiglia alle hawaii vacanze come spendere i soldi è morta nadia cinque motivi per dire no cazzo smettete mettete un video e basta di che è morta stop la gente ha capito che è morta non c'è bisogno di farci dieci cazzo di video in cui spieghi vita morta e miracoli basta uno che magari dura dieci minuti e racconti tutto davide che ne pensi tu vado a segnare fanpage ci si vede vado a segnare fanpage ci si vede